Michele Melillo aveva chiesto una vittoria convincente ai suoi ragazzi e così è stato. Circolo degli amici si è imposto per tre reti a uno nei confronti di ACM Protos. I rosso-blu hanno gestito bene la gara sotto tutti gli aspetti, dal possesso palla alla precisione in zona goal, salvo però cedere campo ad ACM Protos nel finale, dove i gialloneri hanno attaccato con maggiore intensità, impegnando Pulpo in più di un'occasione, segnando anche il gol della bandiera. Vediamo dunque cosa è successo allo stadio Santa Sofia di Fragagnano. Pronti via e Marturano porta in vantaggio circolo degli amici, sorprendendo Di Pietro con questo calcio di punizione che l'estremo difensore giallonero intuisce ma non trattiene. Subito in salita la gara per ACM Protos. Lancio direttamente dalla difesa per Albano, troppo lungo però e Di Pietro rinvia. Un altro rilancio dalla difesa, Marturano si avventa sul pallone, di prima calce in porta ma il suo tiro è fuori misura. Marturano suggerisce per De Vincentis che aggiusta la mira e di destro insacca il pallone nell'angolo più lontano, dove Di Pietro non può arrivare. Al quindicesimo minuto circolo degli amici si porta sul 2-0. Girasole a scavalcare il centro campo, la palla arriva ad Albano che anticipa Di Pietro ma il suo tentativo si spegne a fondo campo. Si vede finalmente ACM Protos con questa percussione sulla destra di scava, che può essere Rinaldi il quale in acrobazia la manda di poco fuori. Attacco di circolo degli amici con questo cross dal vertice destro dell'area di rigore. La palla arriva ad Albano che la rimette al centro, Sardiello però manca l'appuntamento con la sfera. In apertura di ripresa c'è una ghiottissima occasione per Marturano che pasticcia un po' col pallone e perde l'attimo, facendosi poi recuperare dei difensori avversari. Cross di Marturano dalla sinistra per De Vincentis che però è anticipato da Carnevale. Marturano recupera la sfera e serve passiatore, il suo sinistro però finisce abbondantemente fuori. Palla contesa nella metà campo rosso-blu. Carnevale viene fuori dalla mischia e dal limite dell'area fa partire il destro che scheggia la traversa spaventando Pulpo. Gravissimo errore della difesa giallonera in occasione del terzo gol di circolo degli amici. Rugolo approfitta della disattenzione per imbolarsi solitario in area e battere a rete con un pregevole tocco sotto a scavalcare l'estremo difensore avversario. Un'altra leggerezza in fase di alleggerimento dei difensori di ACM Protos. Questa volta però Di Pietro si oppone egregiamente alla conclusione di De Vincentis. Poggi si impossessa del pallone e scarica in porta dal vertice destro dell'area. Pulpo c'è. Tentativo dalla distanza per ACM Protos. Pulpo risponde presente. Si fa sentire sempre di più la pressione di ACM Protos. Questa triangolazione porta Poggi al tiro ma la sua conclusione è alta sopra la traversa. Azione da manuale di ACM Protos. La triangolazione tra scava, Poggi e Rinaldi si chiude col gol di quest'ultimo che batte Pulpo con uno splendido sinistro angolatissimo. Peccato però che il gol arrivi sul triplice fischio del direttore di gara che sancisce così la fine del match. Girasola e compagni si portano a casa i tre punti. Amici del campionato Amatori Taranto, incredibile vittoria di circolo degli amici su ACM Protos qui allo stadio Santa Sofia di Fragagnano. Qui con me c'è Dario De Vincentis e Cristian Marturano. Dicevo Cristian, prima parlavamo, avete fatto una bellissima partita, una bella vittoria salvo poi addormentarvi un po' nel finale, vero? Eh sì, comunque a correre controvento, la fatica si fa sentire, quindi siamo calati vistosamente e hanno anche fatto un bel gol loro. Però tutto sommato la partita è stata vincente, il primo tempo diciamo che poteva essere anche più rotondo il risultato, però alla fine basta che ci siamo divertiti noi e anche gli avversari. Beh gli avversari forse sono divertiti un po' di meno. Dario De Vincentis, lei ha anche segnato, io non c'ero oggi, ah lei ha segnato, mi conferma che ha segnato il secondo gol. È stata una bella partita effettivamente anche da parte vostra, siete stati perfetti quasi in tutti i reparti o c'è qualcosa ancora da correggere? Abbiamo molto da correggere ancora, però insieme stiamo formando un bel gruppo e piano piano riusciremo a migliorarsi tutti quanti. Perfetto, l'urlo devastante qui alle nostre spalle ci ha un attimo destabilizzato, comunque tutto ok qui allo Stadio Santa Sofia di Fraganiano è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao!